Hai fatto caso che visto dall'alto sembra un euro? Varese Ligure si trova nella Alta Valle del Vara, conosciuta come la Valle del Biologico. In questa zona vi sono decine di aziende agricole che tramite le cooperative locali producono carni e formaggi biologici. Il territorio comunale è il maggiore della provincia spezzina, rappresentandone oltre il 15% del territorio complessivo e pensate che è il secondo per grandezza dopo Genova in Liguria. Il castello domina sulla piazza principale di Varese Ligure che è stata per secoli il fulcro del potere della famiglia Fieschi. Varese Ligure Naturalmente oltre a essere uno dei borghi più belli d'Italia è anche bandiera arancione e adesso entriamo nell'euro. Ma che forte! Grazie! 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 Ma dai ma è bellissimo! Il Borgo Rotondo voluto così dalla famiglia Fieschi per proteggere meglio il territorio era molto adatto per il commercio con tutti i negozietti che stavano sotto i portici mentre il mercato nella piazza Fieschi, la piazza più grande Ma è Berlino, Berlino Grazie a tutti E sulle sfonde del fiume Varano è il quartiere di Grecino il ponte di Grecino che ha mantenuto intatto il suo aspetto medievale Viole Ma guarda dove è andata a finire Basso rilievo in arenaria che rappresenta la nascita, la morte e la resurrezione di Cristo Il piatto principe della cucina a Varesina è rappresentato dai crosetti e qui siamo di fronte a una bottega tipica che ancora produce questi stampi Varese Ligure è il primo borgo rurale eco compatibile d'Italia con certificato ISO 14001 Per la corretta gestione ambientale Inoltre è stato premiato dall'Unione Europea come migliore comunità rurale Infatti ha una strategia economica molto moderna nel segno dell'agricoltura rispettosa dell'ambiente, del commercio, del turismo e delle energie rinnovabili Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!